La musica alta, gli effetti in primo piano, quelle strane richieste di ieri sera Un luogo mista a fare in tutta fretta, senza sapere la versione scelta Certo il disordine è una forma d'arte, è l'emergenza amica della sfiga Speriamo non sia dalla nostra parte, che far la notte non ci piace mica Ma questi siamo noi Che succede?